Ciao a tutti ragazzi qui è Archivi Parla e sono qui un pochino per analizzare quelle che sono state le differenze o quantomeno i cambiamenti che ho notato specialmente nel salto tra alfa e beta. Vi lascio magari in descrizione se ancora non l'avete visto il mio video riguardo l'alfa in cui c'erano tutte quante le mie impressioni. Devo ammettere che ho giocato il giusto alla beta mentre l'alfa l'ho giocata per circa 2 o 3 ore specialmente in compagnia. Questa beta l'ho giocata per circa un'oretta in singolo ma secondo me è un pochino bastato a notare alcune differenze perché sì il gioco è stato comunque espanso è chiaro che il salto tra alfa che già era datata e beta sicuramente si nota ma tante cose sono comunque rimaste simili come per dire le armi le mappe le modalità sono circa le stesse dell'alfa alcuni cambiamenti magari riguardano soltanto la progressione che adesso è a xp come chiaramente nel gioco finale mentre nell'alfa era tutto praticamente già sbloccato e disponibile quindi era molto più facile magari poter provare tantissime armi tantissimi accessori tantissimi equipaggiamenti e poter testare quello che è il funzionamento del gioco e tante altre piccole cose senza aspettare di utilizzare tantissimo magari queste armi come accade invece nella beta perché già inizialmente hai soltanto le classi predefinite e devi sbloccare a livello 4 come sempre crea una classe dopodiché utilizza l'arma e fai i livelli per sbloccare magari gli accessori un mirino un freno di bocca qualcosa del genere quello che è il sistema dell'armaiolo che adesso è molto molto dettagliato e con tantissima scelta ma per questa scelta c'è anche il problema del fai i tanti livelli dell'arma perché questi accessori vanno sbloccati se vuoi finalmente utilizzarli quindi la primissima grossa differenza che ho notato è che io sono arrivato nella beta con soltanto la parte aperta per il playstation non avendo ancora preordinato il gioco e ci sono alcune persone che devo ammetterlo stavano tryhardtando veramente potente erano già a livello abbastanza alto quindi rispetto a me avevano già magari equipaggiamenti migliori armi molto accessoriate ed erano magari molto più scaldate rispetto a me che ero appena arrivato nella beta giocando l'alpha giusto per qualche ora mentre altre persone servono praticamente magari a memoria le mappe per bene le bandiere di dominio e tutto il resto ma quello è molto classico come anche code nel gioco finale che se uno gioca poco contro uno invece che gioca da sempre o ha giocato sicuramente più di lui c'è chiaramente quella differenza e quel vantaggio e quello è ovviamente innegabile la grossa differenza che ho notato rispetto all'alpha è un time to kill leggermente più breve infatti l'M16 che già era forte nell'alpha nella beta disintegra con soltanto una raffica e l'ho trovato veramente molto molto efficace specialmente nella classe predefinita che è già in parte accessoriato e la classe sinceramente è molto simile a come la utilizzo anche io e mi ci sono trovato molto bene l'altra cosa su cui avevo fatto un intero video a riguardo era lo skill based matchmaking ripeto io non sono sicuramente quello più preparato o migliore per fare un argomento comunque una discussione riguardante questo piccolo problema ma sembra che i social specialmente Reddit siano tempestati di discussioni riguardante questo mai detto skill based matchmaking e devo ammettere che già un pochino nella beta si potevano notare alcuni sistemi del genere perché come ho detto prima alcuni stavano tryhardando e lo posso capire è un'alpha si stanno magari preparando come sarà Cold War il gioco finale quindi impararsi le mappe, le modalità, gli accessori migliori, le armi migliori è chiaro che sia importante però essere letteralmente devastato game dopo game nonostante ci fossero alcuni momenti in cui stessi giocando devo dire abbastanza bene altri in cui invece venivo letteralmente disintegrato senza riuscire a fare neanche un'uccisione e questo dipende magari dalle mappe, dai giocatori e tanto altro e l'altra cosa strana è che ogni volta che finisce una partita il gioco ti butta fuori dalla lobby e te ne cerca un'altra cosa secondo me completamente insensata perché il bilanciamento sì ci deve essere devi fare in modo che tutti i giocatori incontrino player della stessa skill o simile ma è strano che ogni volta che finisce una partita devi aspettare che il matchmaking letteralmente te ne cerchi un'altra da zero invece che rimeterti con magari gli stessi giocatori qualcuno esce, qualcuno entra, la lobby leggermente magari cambia ma siamo più o meno sempre gli stessi e possiamo finita una partita praticamente subito dopo un prelobby iniziarne un'altra piuttosto che magari aspettare un matchmaking che se non è la beta adesso aperta ci sono sicuramente tantissimi giocatori e tantissime lobby ma è sicuramente strano e secondo me è un tempo di attesa leggermente inutile come ho detto prima avendo già giocato l'alpha devo ammettere che alcune cose le avevo già viste più e più volte quindi ho giocato la mappa mosca sette volte consecutive ed è stato veramente insopportabile ma anche le altre come per dire una Miami, una Cartel e robe del genere era mappe che avevo già visto e già ampiamente giocato nell'alpha le armi anche circa erano sempre le stesse qui non ho visto chissà quali differenze e anzi adesso c'è come detto prima il problema della progressione mentre prima potevo letteralmente provare subito una classe adesso devo in realtà giustamente sbloccare tutto quanto quindi forse l'errore è stato darci questa piccola abitudine magari nell'alpha di avere tutto quanto bello pronto e disponibile e invece poi nella beta darci il classico sistema di progressione che vi ricordo comunque offre alcune ricompense tipo arrivati a livello 10 nel gioco finale avrete la skin di Adler e alcune piccole cose del genere che comunque possono fare comodo le altre differenze che ho notato è forse un bilanciamento leggermente migliore delle serie di uccisioni che hanno dei cooldown molto più brevi per le killstreak o scorestreak dovrei dire leggermente più deboli come un aereo spia o un'artiglieria mentre quelle veramente grosse come un supporto aereo è molto più difficile tirarle una dopo l'altro e anche il moltiplicatore di punteggio per quando siamo in serie è leggermente più basso questo ha senso perché mi ricordo che nell'alpha arrivati a 10-12 di fila il moltiplicatore era abbastanza prepotente tipo 300-400 punti a uccisione quindi arrivare a 3000-4000 era relativamente abbastanza veloce ricordava i tempi di Black Ops 1 per dire dove bastavano soltanto 9 uccisioni per fare un supporto aereo 11 uccisioni per un elicottero cani che erano molto molto forti quindi è chiaro che deve esserci un bilanciamento fatto bene per questo nuovo sistema di scorestreak quasi a supporto di MV3 che morendo non si azzera e si può andare avanti appunto con queste specie di serie di uccisioni che moltiplicano il punteggio da direi vedere un aumento del punteggio specialmente per gli obiettivi raccogliere piastrine, bandiere e altro che so che in parte hanno già fatto ma secondo me non è abbastanza perché se una kill già a 4-5 di fila mi dà 150-200 punti e una piastrina del compagno mi dà 15-50 una nemica a 50 non saprei quale sia il bilanciamento giusto per aumentare il punteggio di questi sistemi ma chiaramente non sono spinto tantissimo a giocare per obiettivi in modalità come uccisione confermata o dominio dove i moltiplicatori di punteggio o le aggiunte sono veramente minime rispetto alle uccisioni che posso fare poi è chiaro che magari molti giocatori sono molto più concentrati sul fare più kill possibile ma per chi magari vuole come me raccogliere giusto ogni tanto una piastrina a conquistare una bandiera non c'è un incentivo così grande un altro piccolo problema che ho già visto hanno risolto Treyarch stati veramente bravi a twittarlo il fatto che mi capitava molto spesso di entrare in partite già iniziate e in partite in cui stavo venendo devastato mi ricordo che sono entrati in una partita di dominio proprio all'intermezzo e stavano perdendo 37 a 100 e letteralmente spawn trappati spawn chillati tutta la partita quello non è stato sicuramente divertente è un po' bruttino e sembra che stiano cercando di evitare di entrare o così spesso o praticamente mai entrare in un game già iniziato ci può stare che se la lobby è vuota qualcuno debba entrare ma è chiaro che la lobby è vuota perché stanno venendo tutti quanti distrutti da giocatori magari molto più capaci o in gruppo ed è quindi chiaro che la gente voglia uscire e non rimanere devastati ma il fatto che gente esca e gente entri non è proprio il massimo questa cosa in parte l'hanno sistemata e sono contento in definitiva posso dire che come primissimo weekend della beta non era affatto male i cambiamenti ci sono stati e sembra che 3A sia veramente molto molto proattiva per quanto riguarda i cambiamenti e il feedback della community ricordo che la beta è praticamente già finita questa sera alle 19 dovrebbe finire ma il prossimo weekend sarà per 5 giorni aperta completamente a playstation i primi 2 giorni chiusa per xbox one e pc e in seguito gli ultimi 3 giorni aperta a tutti quanti con anche il crossplay quindi sono curioso di vedere questi piccoli magari cambiamenti da una settimana all'altra da un weekend all'altro se possono comunque migliorare il gioco specialmente quando magari il feedback è molto più grande per quanto la community di playstation sono sicuro sia gigantesca dove c'è la maggior parte dei giocatori avere anche feedback da pc e xbox one specialmente in crossplay per vedere i problemi di matchmaking connessione skill based matchmaking e tutto il resto possono sicuramente aiutare perché il gioco finale non è soltanto su playstation è su tutte le piattaforme e ha appunto il crossplay quindi sicuramente terrò la beta installata giocherò i primi giorni su playstation e proverò magari sia su xbox che su pc la parte aperta il weekend prossimo per vedere magari i cambiamenti anche soltanto per piattaforma se ci sono dei problemi specifici dove sto giocando e anche i collegamenti nel crossplay giocando contro giocatori di playstation giocatori di pc con mouse e tastiera e piccole cose del genere voglio sapere invece ragazzi le vostre opinioni se avete provato appunto la beta di cold war se avete visto delle differenze gigantesche o molto piccole rispetto all'alpha e se questi cambiamenti vi sono piaciuti oppure no la storia del time to kill non saprei molto bene se è una cosa buona oppure no perché negli ultimi anni mi sembra di capire che in certi code magari il time to kill sia troppo basso mentre in alcuni come black ops 4 che è molto recente era veramente troppo alto per cui trovare la via di mezzo è molto difficile e anche per quanto riguarda lo skill based matchmaking sembra che tutti quanti stiano chiedendo a gran voce che venga leggermente diminuito non completamente rimosso perché non avrebbe senso e c'è in realtà sempre stato ma sembra che si stia incontrando comunque alcuni problemi e magari che il bilanciamento non sia proprio perfetto il video quindi si conclude qui spero come sempre che vi sia piaciuto trovate qui sotto in descrizione il link per i miei social che vi invito a seguire tra cui instagram e twitch vi invito a aggiornare il mio canale discord vi invito a seguirmi anche qua su youtube non ci danno come sempre a un prossimo video un abbraccio ala